la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e buon giovedì a tutti, ben trovati con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine dei nostri quotidiani partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale in primo piano ci sono le parole di Putin che lancia l'allarme nucleare si dice anche pronto a tutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina vediamo infatti il titolo Putin siamo pronti a tutto l'Ucraina, lo zar richiama i riservisti l'Occidente punta a distruggerci ed evoca il nucleare allarme nel mondo Biden all'ONU parole irresponsabili con l'atomica non vince nessuno e poi l'articolo correlato l'intervista a Di Maio Mosca vuole portarci sull'astrico col gas Putin continua a fare apri e chiudi con i rubinetti del gas imprese e famiglie italiane rischiano di trovarsi sull'astrico perché pagano bollette astronomiche andiamo avanti in alto ancora la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni la legge sull'aborto non sarà modificata queste le parole della Meloni invece andiamo di fondo l'analisi non cedere al ricatto può fermarlo prima del baratro torniamo insomma ancora alla guerra in Ucraina le parole di Putin e poi le idee una forte spinta agli investimenti unica strada per la risalita ancora sempre la fotonotizia correlata collegata all'articolo di apertura tra fughe e arresti di masse di sveglio shock della Russia e cambiamo argomento a centro pagina Bitcoin per reciclare il denaro sporco la centrale a Napoli scoperto una rete di prestanome nei vicoli della sanità valute elettroniche intestate a immigrati sei indagati una banca d'affari tra i vicoli del rione sanità un intero nucleo familiare in grado di convertire soldi veri per lo più provento di attività illecite truffa ed evasione fiscale moneta elettronica Bitcoin con un doppio risultato il riciclaggio di denaro ritenuto sporco la possibilità di spenderlo in ogni momento e in ogni parte del mondo e poi andiamo nel sannio terapie da stregoni fratelli finti medici accusati di omicidio c'è anche l'accusa di omicidio preterintenzionale per uno dei due fratelli beneventani finiti finti medici che curavano il cancro sciecherando ossigeno e sangue dalla paziente Irpina che poi purtroppo è deceduta andiamo in basso invece il calcio parliamo del Napoli Meret la forza dei numeri uno dà la contestazione al rinnovo il portiere azzurro sta per firmare fino al duemilaventisette poi l'ira di immobile la vetrina sociale croce delizia dei calciatori immobile acerbi e i giovani arrabbiati d'oggi potrebbe essere un film divertente parafrasando Totò invece sta diventando un problema questa è la prima pagina del mattino nazionale vediamo i titoli per il mattino di Salerno che si concentra in particolare sui festeggiamenti in onore del santo patrono San Matteo che si sono svolti ieri presente alla processione anche il presidente della salernitana Danilo Iervolino vediamo il titolo San Matteo ritrovato riecco la processione dopo due anni di covid bagno di folle ritorno a palazzo di città e la prima volta in piazza libertà la festa di un popolo che si riappropria della tradizione il vescovo caputo Salerno città materna ma il futuro non è in discesa e poi ancora il personaggio come abbiamo detto Iervolino è la superstar arma e gello con il sindaco accoglienza da stadio per il patrono in Duomo selfie applausi sono salernitano questa è la dichiarazione di Iervolino per quanto riguarda invece la politica verso il voto ricordiamo si vota domenica prossima 25 settembre i candidati disertano il corteo Fratelli d'Italia e PD ultima sfida nelle piazze i politici evitano l'applausometro a tre giorni dal voto e poi troviamo l'intervista a Corrado Nadeo il terzo polo e la vera novità dal 26 settembre un'altra era mentre le parole di Giuseppe Benevento del Movimento 5 Stelle dai 5 Stelle un'operazione verità noi argine all'astensionismo andiamo in basso ancora Salernitana Sepe e Villena gli staccanovisti di Nicola fedelissimi del mister unici Granata sempre in campo Fazio recupera ma con cautela e poi troviamo l'intervista Eugenio Albarella gestire ritemprarsi e poi ripartire ecco come si deve affrontare la sosta nella fotonotizia invece l'ultimo saluto ai due giovani rimasti vittime di un incidente stradale avvenuto sabato scorso intorno alle 19 sulla strada provinciale Teggiano Polla ieri l'ultimo saluto insieme per i due ragazzi nella chiesa di Cristore vediamo palloncini musica e motore addio a Vittorio e Terenzio infatti a salutare per l'ultimo saluto c'erano diverse Fiat 500 Avart come le auto che amavano i due giovani e lasciamo questa pagina andiamo avanti vediamo invece quali sono le principali notizie per il quotidiano le cronache in primo piano il caro Energia una una situazione critica per tantissime imprese vediamo il grido d'allarme sul caro bollette spunta la mano dell'usura Pino Bicchielli avverte non si possono abbandonare i cittadini e le imprese in un momento di grave crisi energetica nel Salernitano ci sono aziende su cui grava anche l'aumento dei costi delle materie prime andiamo in alto per la politica pace fiscale per le famiglie e imprese la campagna rischia il crack le parole di Fulvio Martusciello di Forza Italia e poi la polemica all'interno del PD Andrea replica a Letta avevo chiesto un incontro ma e poi troveremo l'articolo all'interno del quotidiano insomma pare che questo incontro poi non sia mai arrivato per quanto riguarda invece Fratelli d'Italia parla Antonio Iannone Sanità Viabilità e Trasporti il flop di De Luca andiamo a centro pagina San Matteo lascia il posto a San Iervolino folla di Fiedelia la processione poi il flop dei fuochi a Lampo applausi e cori con il patron della Salernitana al Duomo andiamo di fondo il fatto Salerno Trasporti arrestata dipendente per tentata estorsione poi andiamo per la sanità distretto 60 pazienti con malattie gravi costretti al ricovero presso le RSA per quanto riguarda le altre notizie ad Agropoli pallavolisse senza palestra l'allenamento al comune poi andiamo a Vallo della Lucania clinica Cobelli su oltre 100 interventi di chirurgia oncologica questa è la prima pagina del quotidiano Le Cronache lasciamo le prime pagine torniamo ora sul mattino nazionale affrontiamo i temi di carattere nazionale ed internazionale in particolare perché si parla della guerra in Ucraina con il botte e risposta tra Putin e Biden Putin che parla alla gente mentre in un incontro con le persone con la popolazione mentre Biden all'ONU che replica vediamo quali sono quali sono state le dichiarazioni di Putin dichiarazioni allarmanti per quanto riguarda anche il mondo vediamo richiamo i riservisti e abbiamo il nucleare discorso alla nazione di Putin l'Occidente vuole distruggerci sì al referendum nel Donbass i ministri dell'Unione Europea riuniti a New York mobilitazione parziale per 300.000 uomini che hanno già svolto il servizio militare la Russia scambia 10 prigionieri con Kiev per difenderci ha detto Putin useremo tutte le armi chi ci ricatta sappia che il nucleare lo abbiamo anche noi e poi andiamo in basso l'intervista a Stefano Stefanini lo zarra alza la posta in gioco pur di uscire dalle difficoltà l'ambasciatore dell'Occidente non deve lasciarsi spaventare l'unica novità è che finalmente ha ammesso di essere in guerra e vediamo poi quali sono state le risposte invece di Biden direttamente dalla sede dell'ONU vediamo parole irresponsabili con l'atomica si perde queste le parole di Biden Biden all'ONU il Cremlino nega all'Ucraina il diritto di esistere nessuno ha minacciato Mosca questa guerra l'hanno voluta loro acqua sul fuoco sulle tensioni tra Pechino e Taiwan noi rispettiamo il principio della Cina unica andiamo in alto chiediamo pace e accordi ma venga esclusa l'acquisizione della terra di un altro paese in basso invece l'intervista a Leonardo Tricarico se Mosca oltrepassa la linea rossa l'Occidente è in grado di rispondere l'ex capo di stato maggiore dell'aeronautica la contromossa dovrà essere concertata e proporzionata saremmo dovuti intervenire dal primo momento quando hanno cominciato a bombardare i civili e chiudiamo questa pagina andiamo avanti cambiamo argomento torniamo in Italia parliamo di sanità vediamo il titolo per il mattino in particolare per quanto riguarda i nodi dei servizi sociali sanità 1,4 miliardi extra per la luce degli ospedali il decreto aiuti TER prova a tamponare i costi dell'energia e delle strutture di cura ma la somma non è ancora sufficiente per coprire il raddoppio delle bollette al Santo Bono la spesa destinata a riscaldamento è salita da 171 mila euro del 2021 a 420 mila euro di quest'anno caro bollette saranno tutti ripianati gli extra costi sostenuti nel 2022 da Aslo ospedali e centri accreditati nel decreto aiuti TER approvato in consiglio dei ministri lo scorso 16 settembre atteso ora in gazzetta ufficiale il governo ha messo nel piatto 1,4 miliardi di euro che saranno ripartiti per quota alle regioni probabilmente con gli stessi criteri e parametri utilizzati per il riparto del fondo sanitario nazionale anche se nulla è stato ancora stabilito con certezza alla campagna dovrebbero essere comunque assegnati 140 milioni di euro andiamo in basso per quanto riguarda invece la scuola i soldi non mancano ma vengono impiegati male fondazione Agnelli retribuzione a 25 mila euro e non vengono riconosciute le ore per la preparazione delle lezioni e chiudiamo questa pagina andiamo avanti restiamo sempre sul mattino nazionale parliamo ancora della crisi economica andiamo negli Stati Uniti vediamo tassi quinto rialzo della Fed e taglia a zero le stime del PIL denaro USA al 3,25% con l'aumento di 75 punti base alta tensione fino al 2024 la BCE si prepara a seguire Powell determinanti a riportare l'inflazione al 2% anche a costo di variare misure dolorose per tutti l'occupazione in America continua a crescere a ritmi sostenuti ora l'obiettivo è farla rallentare e andiamo in basso l'intervista a Ferdinando Natale anche nel mezzogiorno pesa l'incertezza ma si può far leva sull'innovazione il nuovo responsabile di Unicredit Italia dell'area meridionale la campagna al top per finanza innovativa con i mini bond piccole e medie imprese e con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo restate con noi bentornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani salernitani andiamo sul mattino di Salerno ampio spazio dedicato ai festeggiamenti in onore di San Matteo dopo questi due anni di pandemia festeggiamenti ritrovati alla presenza anche del presidente della salernitana Danilo Iervolino e vediamo il titolo per il mattino nelle pagine di primo piano Salerno e città materna ma c'è ancora tanto da fare contro povertà e violenza queste sono le parole del vescovo di Pompei Caputo l'appello alla solidarietà nel pontificale il monito ai tanti fedeli in cattedrale il futuro non si annuncia in discesa il modello i portatori che camminano insieme il primo cittadino superare le avversità restando uniti e poi il racconto di questa della festa la processione della rinascita la città riabbraccia il patrono bagno di folla dopo due anni di covid il popolo applaude e incita le paranze la statua torna nell'atrio del comune e poi debutta nella nuova piazza libertà bellandi dispensa sorrisi e benedizione ai salernitani nella squadra di San Fortunato anche una ragazza questo il racconto una parte del racconto della festa di San Matteo sono diverse le pagine che il mattino di Salerno dedica ai festeggiamenti questi festeggiamenti ritornati ripresi insomma dopo lo stop forzato a causa della pandemia ma cambiamo argomento parliamo ora di politica parliamo delle prossime elezioni politiche che si svolgeranno ricordiamo domenica 25 settembre vediamo le ultime mosse dei partiti verso le elezioni PD e Fratelli d'Italia l'ultima sfida nelle piazze il PD accusa Fratelli d'Italia di essere squadristi Fratelli d'Italia replica Dem violenti chiusura di campagna elettorale stasera per i due partiti con Cirielli e Iannone al molo Manfredi De Luca Junior e gli altri competitor invece saranno al Maremò Andrea le parole di Letta a Salerno non erano per me altrimenti offende la mia e la sua intelligenza e poi per gli altri partiti l'intervista a Corrado Nadeo del Terzo Polo dal 26 settembre un'altra era politica noi la vera novità distanti dai populismi con candidati radicati sul territorio credibili e competenti progetto importante non solo per Salerno e poi troviamo l'intervista Giuseppe Benevento del Movimento 5 Stelle Operazione Verità per fare dargine all'assenzionismo di Maiovia per noi è stata una fortuna tanto malcontento nel centro-sinistra non andremo lontani dei numeri del 2018 e chiudiamo questa pagina andiamo avanti restiamo sempre sul mattino di Salerno andiamo sulle pagine della provincia di Salerno in particolare per quanto riguarda le aree della Piana del Sele dei Picentini del Cilento e del Vallo di Diano e partiamo proprio dalla Piana del Sele nuovo elettrodotto via i lavori di Terna progetto da 5 milioni il collegamento interrato sarà lungo 18 chilometri e coinvolgerà anche Eboli Monte Corvino Rovella e Olevano sul Tusciano il Ministero della Transizione Ecologica come comunicato da Terna attraverso la regione Campania ha autorizzato l'interramento dei tralicci da Monte Corvino a Campania un intervento che riguarderà anche i comuni di Battipaglia e Eboli e che prevede un nuovo collegamento elettronico completamente interrato lungo circa 18 chilometri che partirà dalla stazione elettrica di Monte Corvino Rovella per arrivare fino alla cabina primaria di Campania un progetto insedito nel piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2012 restiamo a Battipaglia suolo pubblico e farmacie test in assise mentre a centropagina andiamo a Padula indagine a lente montano sequestrati i cellulari in basso invece ieri si sono svolti i funerali a Polla dei due giovani rimasti vittima dell'incidente stradale verificatosi sabato scorso ieri l'ultimo saluto alla chiesa Cristore tantissimi palloncini bianchi per salutare il 29enne il 24enne di Polla vediamo il titolo palloncini musica e rombo di motori per l'ultimo saluto a Vittorio e Terenzio i fili dei palloncini bianchi fatti librare al cielo all'uscita dei feretri si sono annodati fermandosi su un palo della luce tutti gli altri palloncini centinaia hanno riempito il cielo sulla piazza Antonio Forte quei due sono rimasti legati e aleggiando sulle migliaia di persone che hanno partecipato al funerale di Terenzio Volonnino e Vittorio i soldi due ragazzi che hanno perso la vita in seguito ad un tragico incidente sabato sera lungo la strada provinciale di Teggiano due paesi hanno pianto i giovani Polla e Pertosa comune d'origine del padre di Vittorio infatti presenti ai funerali c'erano i due sindaci sia il sindaco di Polla Massimo Loviso che il sindaco di Pertosa Barba entrambi con la fascia tricolore per l'ultimo saluto ai due giovani e poi andiamo a Eboli edilizia popolare è intesa nascono 16 nuovi alloggi per le notizie invece riportate di spalla a Centola Palinuro SOS furti i cittadini organizzano le ronde ancora furti nel basso cilento i malviventi questa volta hanno trovato ad attenderli i cittadini e forze dell'ordine ne è nato un inseguimento nelle campagne tra Massicelle e San Severino di Centola alcuni cittadini organizzati in ronde hanno sorpreso la banda di ladri pronta a mettere a segno l'ennesimo furto immediato l'arrivo delle forze dell'ordine scoperti i malviventi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce e poi invece a Pisciotta di rupo fatale dopo tre anni comunali a giudizio e chiudiamo le pagine del mattino di Salerno andiamo invece sulle pagine del quotidiano Le Cronache anche qui ampio spazio dedicato ai festeggiamenti in onore di San Matteo ieri a Salerno vediamo come abbiamo detto presente ai festeggiamenti anche Danilo Iervolino Iervolino e Bellandi incoronati il re di Salerno nel giorno di San Matteo il governatore entra da una porta laterale ma la scena è tutta del presidente Granata grazie presidente questo l'urlo dei tifosi presenti ai riti il patron della Salernitana e il vescovo accolti dagli applausi dei fedeli al pontificale e poi vediamo qui le immagini della festa tantissimi fedeli ieri mattina hanno presenziato al solenne pontificale in onore di San Matteo tanti fedeli e moltissimi tifosi che già da un'ora prima attendevano l'arrivo del presidente Iervolino e qualcuno anche della squadra che invece non ha partecipato alla funzione Iervolino è giunto in cattedrale pochi minuti prima dell'inizio della funzione in chiesa c'erano già tutti e chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sul quotidiano le cronache vediamo le notizie provenienti dalla provincia di Salerno andiamo in particolare nel Cilento vediamo Agropoli concessione di spazio a pallavoliste l'allenamento si trasferisce al comune la carenza di adeguate strutture sportive danneggia le società e tutti gli atleti l'autorizzazione è stata negata il pala impastato è ancora in stato di abbandono nonostante le denunce noi disposti a pagare quanto dovuto ma diritti siano rispettati ancora per problemi ad Agropoli per l'amministrazione guidata dal sindaco Mutali Passi nel pomeriggio di martedì infatti davanti al comune si è tenuta una protesta pacifica da parte di un'associazione sportiva a compierla è stata una delegazione di atleti in primis della volle e accademici lento ma anche dirigenti e genitori hanno voluto essere presenti per dar manforte alle giovani giocatrici e per esprimere il loro pensiero il nodo della questione è la non concessione di un campo al sodalizio sportivo che chiede per ovvi motivi legati alla disciplina della pallavolo un palazzetto una struttura chiuso anche in vista dell'ormai imminente stagione autunnale ancora di più di quella invernale durante le quali le temperature non permettono allenamenti sani e sanitari e andiamo in basso il fatto microcippatura gratuita ad Agropoli notevole adesione da parte della cittadinanza sono stati in 50 cittadini che hanno portato il proprio cane per il microcip e l'iscrizione all'anagrafe canina e chiudiamo anche questa pagina parliamo ora di Salernitana quindi ci spostiamo sulle pagine sportive del quotidiano Le Cronache c'è l'intervista all'ex allenatore della Salernitana vediamo la Salernitana si salverà senza patemi le parole l'ex tecnico Granata Nicola sta facendo un grande lavoro De Santi si ha portato calciatori importanti ed il tifo fa sempre la differenza Leonardo Menichini giudica l'avvio di stagione dei Granata a parte l'incidente di percorso con il Lecce ha dimostrato di essere una squadra solida e concreta la promozione del 2014 e la salvezza del 2016 traguardi indimenticabili Salerno mi è rimasta nel cuore che partita con la Juve mentre con i Salentini è stata una gara nata male la sosta aiuterà queste le parole dell'ex allenatore della Salernitana e con questa pagina termina la nostra segna stampa io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 13.45 e alle ore 19.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata